Scanner per intercettare le radiofrequenze di polizia, rice trasmittenti, materiale da scasso, autorubate, targhe false, silicone per cambiarsi connotati, parrucche ed una pistola giocattolo, ovviamente senza tappo rosso. Era tutto pronto per l'assalto ad un ufficio postale di Chieti, ma i tre componenti, la banda, costituitasi per l'occasione, non avevano fatto i conti con la polizia di Chieti e di Pescara che da tre giorni li pedinava e che ha fatto scattare i blitz prima che potessero entrare in azione. Ieri pomeriggio sono finiti in manette con l'accusa di tentata rapina e ricettazione tre professionisti della rapina, come le hanno definiti gli uomini della squadra mobile di Chieti. Alessandro Surgo, piemontese, da poche ore è arrivato in Abruzzo attraverso la stazione di Pescara, Luigi De Filippo, pugliese di nascita ma residente a Roma, e Romano Micconi, vecchia conoscenza della polizia teatina, quando lavorava come buttafuori in alcuni locali della zona e che lo ha già arrestato cinque anni fa in un'operazione simile a quella odierna. C'è poi una quarta persona, il basista, un pregiudicato locale che però è stato denunciato a piede libero. Micconi era senza dubbio l'uomo più pericoloso e la mente della banda, un passato nella curva di estrema destra della Roma, i boys, simpatizzante dei NAR, grande esperto di rapine. Stando alle indagini sarebbe stato lui a contattare gli altri componenti della banda, grazie alle sue conoscenze negli ambienti della criminalità. Sempre lui avrebbe deciso e pianificato minuziosamente la rapina, secondo un cliché però ben noto agli uomini della squadra mobile di Chieti. Sicuramente ha una conoscenza, una professionalità nell'ambito delle rapine, dei reati contro il patrimonio non comune. Persona molto molto meticolosa che noi conosciamo benissimo, avevamo su di lui un patrimonio informativo pressoché completo per averlo arrestato cinque anni prima mentre si stava recando insieme ad altri probabilmente a compiere un'altra rapina e danni di un altro istituto bancario. Molto incline la violenza, una persona che non si era mai tirata indietro quando ci era da menare le mani e che si era insediato nel nostro territorio alcuni anni fa, tant'è che occasionalmente aveva svolto attività di buttafuori in alcuni locali di Chietiscalo. Comunque una persona molto 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 pericolosa.